Le 8 in punto, buongiorno, buona domenica, benvenuti ad Omnibus, questa mattina parleremo delle primarie, primarie americane perché ieri si è votato negli Stati Uniti in quattro stati per le primarie e primarie anche italiane perché il PD si appresta ad una tornata in vista delle amministrative di giugno, si vota oggi per i candidati del PD a Roma, Napoli, Trieste e anche a Grosseto. Con chi discuteremo questa mattina, vi presento subito i nostri ospiti, a partire dalla mia sinistra Paolo Guzzandi, non ha bisogno di presentazione, buongiorno, alla sua sinistra Giuseppe Raguse, economista della LUIS con un'esperienza americana e molto competente sui big data, posso dire così professore, alla destra Alberto Castelvecchi, docente di comunicazione alla LUIS, buongiorno, e poi abbiamo in collegamento da Torino il politologo Gianfranco Pasquino, buongiorno professore, se mi sente? Buongiorno a voi tutti, e in collegamento da Napoli Marco De Marco, direttore del Corriere del Mezzogiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, allora andiamo innanzitutto alle notizie che arrivano dagli Stati Uniti perché abbiamo detto si è votato in Kansas, Nebraska, Maine, Louisiana e Kentucky, ricordiamo quelli che sono i risultati, Bernie Sanders vince i cocos democratici in Kansas e Nebraska, Hillary Clinton prevale in Louisiana, quindi siamo 2 a 1 per Sanders, anche se poi come vedremo questo non intacca la volata di Hillary Clinton verso la nomination democratica, invece per i repubblicani Ted Cruz ha conquistato il Kansas e il Maine, e si conferma dunque l'unica alternativa fattibile a Trump, Trump invece il miliardario new yorkese è arrivato prima in Louisiana e Kentucky, cos'è successo? Trump invita Marco Rubio a ritirarsi, Cruz invita gli altri candidati a qualizzarsi contro Trump. Allora io chiedo subito a Guzzanti e a Ragusa una valutazione di queste votazioni di ieri che erano, possiamo dire, importanti ma non importantissime perché poi alla fine hanno confermato la tendenza. Una tua valutazione? Certamente confermano il trend che si era visto nel Super Tuesday, il Super Martedì, in cui sono le candidature della Clinton da una parte e l'ipotetica ancora candidatura di Trump dall'altra hanno avuto uno sviluppo positivo imponente, cosa che non ha sorpreso nel campo democratico anche se Sanders che sa di perdere combatte la sua battaglia con grande generosità e per uno spirito di bandiera delle sue idee. Dall'altra parte invece in campo repubblicano c'è il marasma perché Trump è l'oggetto, è l'intruso misterioso, neanche tanto, che manda in bestia tutto l'establishment repubblicano che sperava che vincesse Rubio che è stato riempito di soldi in quantità incredibile, centinaia di milioni spesi in spot da questi super PAC che sono le coalizioni di intervento monetario delle grandi companies. Trump invece che si presenta con questa sua aria, di quello che dice io sono un imprenditore, gioco con soldi miei, io posso e quindi lo faccio e non ho bisogno e questo dimostra che io non sono grato all'establishment e questo è secondo me il punto più importante al di là dei singoli candidati. Sta succedendo qualcosa in America, qualcosa che somiglia vagamente a quello che è successo in Europa e in Italia e cioè è cresciuta l'antipolitica. Negli Stati Uniti quando si dice DC, intendendo Washington DC e quindi come dire Roma ladrona, si è sparso un atteggiamento, diffuso un atteggiamento di ripulsa e di antipolitica, di violento rancore verso la classe politica che è intercettato perfettamente da Trump, altrimenti non si capirebbe come mai quest'uomo ha mille difetti, in passato di cui si possono discutere un sacco di cose, atteggiamenti discutibili, però intercetta una novità di un'America che non è più quella di prima, specialmente quella giovanile che in larga parte va a Sanders che è un leader di tipo europeo. Sanders è uno che dice facciamo degli Stati Uniti un paese europeo, come un primo ministro inglese, una cosa così. Mentre Trump dice torniamo a fare l'America grande che in realtà è un appello alla classe medio-bassa ma già ascoltato anche dalla classe invece dell'upreme class e cresce, cresce in tutti i ceti, quindi c'è una corrispondenza fra il candidato Trump e una nuova pelle americana che ancora non è stata indagata bene ma che è formata da minoranze aggressive come quelle degli asiatici per esempio, che sotterrano gli afroamericani nelle scuole, nei posti di lavoro, sono diventati dei protagonisti importanti. Trump d'altra parte, che è stato criticato perché non ha respinto l'endorsement del Ku Klux Klan dicendo io non ne so niente, ha fatto un programma che secondo lui promuove gli afroamericani e li rimanda a scuola, gli offre nuovi posti di lavoro, c'è la questione dei flussi migratori che è enorme perché mezzo Messico si starebbe trasferendo negli Stati Uniti mentre il Guatemala sta trasferendosi in Messico, quindi sono delle ondate migratorie molto imponenti e che bisogna affrontare politicamente, un po' come abbiamo noi il nostro problema mediterraneo di immigrazione e quindi quello che mi pare di vedere è un'America molto diversa e ancora non compresa. Professor Agusa, una sua valutazione, che sta succedendo? L'America è sicuramente diversa, l'America è diversa dal punto di vista economico, agli ultimi 30 anni hanno visto una grossa polarizzazione sia dal punto di vista dei redditi, dei salari, quindi come si dice volgarmente i ricchi diventano più ricchi, i poveri continuano a diventare più poveri, ma c'è dell'altro, c'è anche una polarizzazione sociale molto forte, le persone si sentono escluse da quel progressivismo che l'America aveva sempre proiettato sui suoi abitanti, il sogno americano, la probabilità di riuscire a essere meglio di quello che si è nati, questo sta un po' venendo meno e questo sta tirando fuori il peggio degli Stati Uniti, il peggio degli Stati Uniti vuol dire che alcuni Stati hanno visto in Trump l'unica possibilità di far valere i propri diritti, far valere le proprie opportunità economiche, Trump è un personaggio molto particolare, un personaggio molto particolare perché ha vissuto tanti anni negli Stati Uniti, vederlo, dire quello che dice sul palco scenici dei dibattiti e poi continuare a prendere voti è veramente impressionante, perché la politica americana è molto politically corretta, è impossibile dire... Puritana? Puritana ma ha un grosso senso del ruolo, quando si sale sul palco scenico bisogna dire e non dire delle cose, c'è dell'altro, dopo la sconfitta di Mitt Romney contro Obama il partito repubblicano si è chiuso nelle stanze e ha fatto l'autopsia della sua morte dicendo che la ragione per cui perdiamo è una ragione demografica, la ragione demografica è che noi abbiamo fatto malissimo fra le minoranze, abbiamo fatto benissimo fra i bianchi, Mitt Romney è il candidato del partito repubblicano che ha preso più voti fra i bianchi, quindi se vogliamo avere un path, un futuro dobbiamo rivolgerci agli elettori della minoranza. Arriva Trump, la prima cosa che dice, i messicani sono tutti dei violentatori sessuali e sono dei criminali, quindi ha rotto completamente quello che il partito repubblicano voleva in parte essere. Proprio così, perché lui ha le sue aziende fatte solo di operai messicani, lui ha detto l'arrivo scatenato dal Messico porta insieme i disperati, porta anche, però è anche vero con la narrativa, il partito repubblicano che dice dobbiamo rivolgerci alle minoranze, agli Hispanics, il candidato invece al primo dibattito attacchi gli Hispanics, l'immigrazione, si pensa questa è la fine immediata di Trump, invece Trump vince. Ora il problema è il numero secondo me che bisogna guardare, parlando dei numeri, 1237, che è quello che succederà adesso. Cosa sono i 1237? I 1237 sono il numero dei delegati di cui ha bisogno per andare alla convention, la convention è un congresso, si va in convention, e se uno dei candidati, Trump, Cruz e Rubio, dovesse arrivare con 1237, questi candidati sono obbligati a votare per il candidato per cui sono stati eletti, quindi se Trump dovesse raggiungere quel numero è il candidato del partito repubblicano. è molto probabile che non ci arrivi nessuno, per varie ragioni gli stati allocano i candidati. E in tal caso che succede? In tal caso si va alle brokered convention, la convention decide chi sarà il candidato. Ora c'è un sacco di problemi tecnici, potrebbero non essere cluse, si vota, quindi si va nelle stanze segrete in cui si tenta di trovare un candidato. E' molto probabile che ci si metta di fronte a un problema, da una parte si può scegliere Trump comunque, e quello andrebbe a favore della base che ha scelto Trump, che molto probabilmente arriverà alla convention con la maggioranza delegati, l'establishment, l'elite vorrà scegliere invece un candidato alternativo che potrebbe invece completamente distruggere la base dal punto di vista morale. La verità è che si sta distruggendo il partito repubblicano in questo momento negli Stati Uniti, stiamo assistendo a una deflagrazione del partito repubblicano, e se salta il partito repubblicano, salta il bipolarismo, salta in una certa maniera il sistema politico americano a cui abbiamo assistito negli ultimi 200 anni, con le conseguenze molto importanti che può avere sul... Ci fu pure la crisi per Ted Roosevelt, che qui non è la prima volta... Però la prima volta nel mondo moderno, nel millennio. Allora, le primarie americane, tutti lo sappiamo, sono un grandissimo spettacolo, cartelli, palloncini, convention, eccetera, eccetera. Noi abbiamo il PDA delle primarie, come possiamo dire, nostrane. Qualcuno dice che sono sottotono, qualcuno dice che sono noiose. Roma e Napoli sono le due città più importanti, senza voler niente a Trieste e a Grosseto. Allora, Alberto Castelvecchi, sono veramente noiose queste primarie italiane, oppure sono un po' ruspanti o semplicemente siamo all'inizio? Le primarie italiane e le primarie del PD sono noiose perché è noioso il PD in questo momento, nel senso che non si vede la luce in questa piccola guerra per bande romana, che di fatto ripropone poi gli equilibri che conosciamo. c'è un candidato grossomodo imposto da Renzi, c'è un altro Morassut che è vicino al vecchio blocco veltroniano, cioè sostanzialmente ha delle storie molto romane, ci sono alcuni volti nuovi, c'è il candidato che si presenta con un orsacchiotto, Gianfranco Mascia, che è molto peculiare. Mascia e l'orso. Ecco, Mascia e l'orso perché tenta un qualche tipo di cude teatro. Ecco, intanto vediamo, faccio una cosa di servizio, diciamo così, Chiara Ferraro, candidata sociale, non vorrei usare la parola di bandiera perché è brutto, però insomma di sensibilizzazione sui temi sociali. Sì, perché le autistiche quindi si candida dicendo io voglio segnalare il problema. Sono sicuramente picchi di visibilità mediatica importanti, che è sicuramente importante, il fatto che Gianfranco Mascia si presenti facendo una cosa che nel gergo dei ragazzi romani si chiama una cosa cicciotta. Cicciotta. Cioè, com'è cicciotto presentarsi con l'orsoacchiotto? Lui è uno che si intende di comunicazione politica, quindi diciamo sa perfettamente che un'immagine di un candidato con l'orsoacchiotto spesso vale più di mille parole. Ma c'è da dire che anche gli altri, ecco perché lui aspira a essere il candidato delle famiglie in qualche modo e quindi lancia un messaggio molto forte di questo tipo. Ma, insomma, le due voci più in questo momento forti, se vogliamo, credibili, cioè Giacchetti, che è un po' più un emissario renziano, e Morassut, che è più un emissario del territorio romano, di una storia politica romana, la cosa incredibile è che appena si candidano, dichiarano uno di stimare l'altro, sarà molto bello misurarsi, cioè non c'è proprio... Vogliamo se bene. È un vogliamo se bene o un tentiamo un accordo all'ultimo momento, insomma non si capisce bene. Certo, ecco, quello che è interessante in tutto questo è che è interessante come si sta ridisegnando la geografia dei poteri politici locali alle spalle di un governo Renzi che l'unica cosa che ha saputo fare è mettere un commissario straordinario, cioè Orfini, sulla devastante situazione di crisi politica di Roma. Nel senso che, intanto che il governo Renzi appare sganciato da questi equilibri locali, gli equilibri locali in Campania, a Torino, a Roma soprattutto, si stanno riorganizzando e quella parte del PD che non riesce assolutamente a farsi ascoltare in sede centrale cerca di riaggiustare i propri poteri a livello locale. Pensiamo a Fassino e Chiamparino, a Torino, piuttosto che appunto i vecchi volti come Bassolino in Campania, questi sono tutti vecchi dinosauri del PD, ma anche i dinosauri di mezza età del PD che si presentano a Roma sono grossonodo emanazione dei soliti vecchi correnti dalemiane o veltroniane. È una situazione abbastanza drammatica che riesce a far sembrare perfino un orzacchiotto, cicciotto, come una notizia. Ecco, siamo un po' a questo livello qua. Non è confortante, ecco, voglio dire. Grazie Castelvecchi. Allora, Napoli, Marco De Marco, Corriere della Sera e poi dopo Gianfranco Pasquino a Torino. Allora, si è detto che, è stato detto, mi sembra Paolo Cento, che le primarie del PD a Roma erano noiose. De Marco, ti chiedo, le primarie di Napoli, dove corre un pezzo grossissimo come Antonio Bassolino, come sono state? Noiose, eccitanti alla napoletana? Beh, se quelle romane sono state noiose, non saprei proprio come definire quelle napoletane inconsistenti, a parte Bassolino, che però è un caso a parte, diciamo, sono noiose per le ragioni che dicevate, ma quello che preoccupa è che rispetto a tutto il panorama nazionale, Napoli fosse il punto più basso. Non tutte le primarie del PD sono uguali. Quelle di Milano, per esempio, sono state un'altra storia, che ha messo passi più vivaci, più vere anche. Quella napoletana, dopo da un dato, è l'unica dove non si è riusciti a organizzare neanche un dibattito tra tutti e quattro i candidati alla prova di oggi, perché all'ultimo minuto, in modo raffazzonato, proprio visibilmente superficiale, solo tre su quattro hanno partecipato. Bassolino si è tenuto fuori. Si è tenuto fuori perché, come ci insegnano gli esperti, chi è in vantaggio tende a non trasferire la propria visibilità sugli altri. Nel caso di Bassolino la cosa è un po' diversa, perché lui è sicuramente il più noto, ma non è quello che parte in vantaggio. La candidata che è prima nei sondaggi ed è quella che ha una maggiore forza delle correnti alle spalle è la Valente, cioè l'altra vera concorrente. Poi ce ne sono altri due, un giovane, il giovane Sarracino, 26 anni, che sta lì per testimoniare un cambio generazionale, e poi Marfella, che è un farmacologo socialista con pochissime possibilità di accreditarsi. Quindi lo scontro è tra i due. La cosa ancora strana è che su Bassolino, all'inizio, il PD centrale, il PD di Renzi, il PD dei vice di Renzi, Guerini e Sarracchiani, aveva posto un veto grande quanto la casa. Aveva detto che quello non è il nostro candidato, non si può candidare perché rappresenta il vecchio, ha già fatto le sue esperienze e via dicendo. Poi non si sa per quale ragione questo veto, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma una volta che è stato posto non si capisce perché invece è andato via, è sfumato e ora si ritrovano con Bassolino tra i piedi, che è un candidato molto scomodo. Professor Pasquino, allora dicevamo, prima re noiose a Roma e a Napoli, così però non è stato a Milano. Perché? Ma le primarie non debbono essere né noiose né divertenti. Certo, se sono divertenti è meglio per tutti, meglio soprattutto per gli elettori e penso soprattutto per i giornalisti. Le primarie devono essere competitive, competitive non manipolate e non predeterminate. Le primarie di Milano erano competitive, entro certi limiti direi, perché il vantaggio dell'incoronamento da parte di Renzi a favore di Sara era evidente. Io credo che le primarie romane e quelle napoletane, da come si vedono sui giornali e per televisione, non saranno né noiose né divertenti, ma sono competitive e quindi hanno un qualche effetto, avranno degli effetti anche sugli equilibri interni al Partito Democratico. Se sono interessanti mobilitano gli elettori e questo è quello che conta, perché sono l'unico strumento fondamentalmente in questa politica dove i parlamentari sono stati tutti nominati che consentono agli elettori di esprimere un voto significativo per la scelta di un candidato che in qualche caso va anche poi a vincere le elezioni locali e quindi a governare. E quindi la neosità dipende non dallo strumento primarie, ma dipende ovviamente dai candidati. Possiamo dire che i candidati napolitani, che pure hanno qualche caratteristica interessante, non sono stati particolarmente brillanti, che i candidati romani sono stati davvero poco brillanti, anche perché sanno tutti benissimo che lì corrono il rischio di essere poi sconfitti dai grillini al ballottaggio, mentre a Milano la sinistra partiva avvantaggiata, i suoi candidati hanno, credo, fatto una buona campagna elettorale, detto delle cose e espresso quello che pensavano sia della politica in generale, del governo, del governo locale. E quello ha prodotto, come dire, l'interesse, e poi che siano proprio certe divertentissime, non lo so, però se devono essere divertenti, come quello che dice Trump, allora preferisco che siano le primarie italiane che abbiamo visto. Grazie. Perché lì il divertimento con lo sberleffo, con l'insulto, non credo che lo vorremmo. Giudizio transcianda politologo. Allora restate con noi pochi secondi di pubblicità e torneremo subito dopo per parlare delle primarie americane e di quelle italiane. Restate con noi. Donald, sei fuori. Flavio, you're fired. No, no, no. Donald, sei fuori. You listen to me. You're fired. Sei fuori. Allora, un po' di divertimento a quest'ora delle mattine, alle 8.25 di Apprentice era il reality inventato da Donald Trump, che se sarà presidente degli Stati Uniti, come Reagan era il primo attore, probabilmente sarà il primo presentatore televisivo a finire la Casa Bianca, però scherzi a parte. Parliamo veramente di Trump, di chi è questo personaggio che sta facendo discutere negli Stati Uniti, in Europa e in Italia. Prima di dare la parola a Paolo Guzzanti e al professor Ragusa, io vi farei vedere il video con il quale Mitt Romney ha sostanzialmente impallinato a Trump, dato la sveglia al suo partito e lanciato delle accuse pesantissime. Ascoltiamolo. Se noi repubblicani scegliamo Donald Trump come nostro candidato, le prospettive per un futuro sicuro e prosperoso saranno largamente diminuite. Lasciate che vi spieghi perché. Partiamo dall'economia. Se i piani di Donald Trump saranno mai messi in pista, il Paese sprofonderà in una prolungata recessione. Pochi esempi. Il dazio che lui propone del 35% sulle importazioni provocherà una guerra tariffaria che farà aumentare i prezzi per i consumatori americani, ucciderà i posti di lavoro delle aziende che esportano e porterà alla fuga dall'America di imprenditori e uomini d'affari. Questo piano, assieme al rifiuto di Trump di rivedere i diritti acquisiti e aggredire la spesa pubblica, farà esplodere il deficit e il debito nazionale. Ora, anche se Trump ha dato pochi dettagli sul suo piano economico, già quel poco che ha dato, vi assicuro, è abbastanza per capire che tutto ciò sarà molto dannoso per i lavoratori americani, per le loro famiglie. Certo, mi direte, ehi, aspetta, Trump non è forse un vincente negli affari? Forse non sa di che sta parlando? No, non lo è. E non sa neanche di che parla. Lui poi ha ereditato le sue aziende, non le ha create. D'accordo, lasciamo perdere le sue linee aeree, ma allora che dire dell'Università Trump? E poi ci sono i giornali di Trump e la vodka di Trump, le bistecche di Trump, i mutui di Trump. Mi spiace, ma lui non è davvero un genio degli affari. Carlo Guzzanti, che animale è Trump? Siccome io proprio faccio il dispettoso di natura, di mestiere, perché credo in un giornalismo che cerca di uscire in controtendenza, Trump mi incuriosisce molto. E io non sarei così lesto nel liquidarlo come una figura ridicola, pericolosa, può darsi benissimo che lo sia, ridicola, un uomo che fa le gaffe stranote, anche durante i dibattiti, all'uso, alla perdita di sangue della giornalista. Le dimensioni, ricordiamo. quindi lui è un uomo che mette insieme, se vogliamo fare dei modelli italiani, come comportamento, un po' di Berlusconi, perché è un imprenditore edilizio, ma diversamente da Berlusconi, che ha cominciato la sua attività da solo, lui l'aveva editata da un padre scozzese che faceva case popolari per conto del governo. E' vero, ha fallito un sacco delle sue attività perché in questo estro da matto, ma l'America così si fallisce, si va avanti. Sì, prova con le bistecche, prova... Però il suo reality show invece ha avuto grande successo e anche in questo somiglia a Berlusconi. Ma l'America a cui lui si rivolge e che lo approva è un'America, diciamo, grillino, leghista, è una cosa che riguarda sia la ribellione generale verso l'establishment e sia la questione degli immigrati vissuta molto drammaticamente. Che ci sia un problema degli immigrati legali, non so se sono davvero 11 milioni come lui dice, ma un rapporto tra posti di lavoro legali e posti di lavoro illegali con... Lui ha detto delle cose tremende, l'ultima del suo programma è stato che basta con lo use solis. Ora in poi chi nasce in America non è per questo americano. Bisogna vedere chi sono i genitori e se gli concediamo questo... E anche basta con tutti questi milioni anche di europei che vengono con delle borse di studio o con dei visti di studio, di lavoro e poi non rischiò di più. E ha proposto di rinforzare una polizia che esiste ma che in minimi termini che si occuperebbe soltanto di rimpatriare gli emigrati. Questa cosa ha fatto mandare in furia e in orrore tutta l'America dei diritti liberale quella poi che difende proprio il nome il concetto di un'America che è la terra degli emigrati il luogo dove gli emigrati vanno e che vengono accolti in quanto tali. E questo è un conflitto però nuovo perché nuova è la situazione che si sta determinando negli Stati Uniti lui ha un carattere molto lo ho seguito molto lo ho seguito sulle televisioni ho sentito decine di sue interviste all'aria di quello che dice io lo so che questo ti manderà in bestia io lo so che ti sto provocando e lo faccio proprio per questo e reagisci fammi vedere come reagisci Dimitri Romney ha detto questo è un cadavere che parla uno che non ha saputo fare una campagna elettorale ma ve la ricordate la campagna elettorale di Dimitri Romney una cosa pietosa una cosa quando era al punto in cui sono io adesso era proprio ai minimi termini quindi lasciatelo parlare che non conta nulla l'atteggiamento quindi è sprezzante guascone l'americano medio medio basso si sente ringalluzzito perché è trovato colui che dice di difenderlo dal governo da DC e da tutti i suoi politici compresi quelli repubblicani che diversamente da lui sono sempre in eccellente grisaglia tutti grigi con le tempie grigie e con un modo di parlare affettato sì ma anche britannico un po' come tipo certi sembrano dei personaggi della Camera dei Lord e lui invece è ruspante popolare e vuole colpire anche quell'establishment quindi in lui c'è una parte sanguigna certamente che è corrispondente ad una nuova parte sanguigna degli americani medi ma anche ho letto anche della upper middle class perché non è più l'americano che parla ai rednecks a quelli che hanno il collo abbronzato perché sono agricoltori o parla ad una classe media e lo vedi anche sui giornali quando vedi il New York Times che dice però caspita che succede che animale è Trump è un animale che secondo me ha capito benissimo che c'è un tema che c'è un'America che ha paura c'è un'America che ha paura di essere aperta ora l'America è sempre rappresentato nella storia l'apertura cioè la classe liberale quella parte di America che ha detto noi siamo riceviamo tutti li trasformiamo li miglioriamo e così diventiamo migliori anche noi Trump invece ha capito che c'è una parte del paese che ha paura di questa apertura che ha paura degli effetti che la globalizzazione stanno portando sul loro modo di vivere perdono lavori ma non è soltanto la perdita dei lavori è anche la perdita delle loro tradizioni la perdita della loro vita come se la immaginavano o come l'hanno vista 30-40 anni fa Trump sta incarnando ciò è anche curioso che Trump riesca a mettere assieme una coalizione sociale che è molto strana Trump mette assieme i poveri ma mette assieme anche la middle class educata e questo perché questa polarizzazione che ha avuto luogo negli Stati Uniti negli ultimi 30 anni è molto eterogenea da Stato a Stato quindi il laureato del Massachusetts è completamente qualcosa di diverso dal laureato del Nebraska o dal laureato della Louisiana e quindi il laureato della Louisiana si può sentire più vicino a chi ha difficoltà nel Massachusetts piuttosto che un laureato della California quindi grosse eterogeneità territoriali e questa voglia di chiudersi tant'è che nel programma di Trump per quello che sappiamo anche perché anche lì ci sono delle grosse differenze con Trump rispetto all'establishment mentre il suo programma è fatto di pagine volanti e di dichiarazioni che poi non hanno dietro dei documenti che tentano di spiegare quello che vuole fare la grossa grossa è tentare di bloccare esportazioni e importazioni con tariffa chiudersi e l'idea è voi state perdendo il lavoro perché le macchine vengono oggi costruite non più a Detroit le fanno gli asiatici è semplice risolvere ciò anche in Italia chiudiamoci è quello che succede in Italia anche in Italia questo dibattito europeo anche in Italia le macchine le fanno no no infatti anche in Italia questo dibattito è molto anche europeo chiudersi verso aprirsi il problema è che l'Italia ha difficoltà perché le macchine vengono fatte all'estero o perché noi non siamo capaci di fare le macchine e quindi ci sono molti punti di contatto fra la Lega Grillo in realtà è difficile trovare Trump e Berlusconi Trump e Grillo no Trump è un po' qualcosa che è tutto che tende a inglobare tutte le rabbie e tutte le paure dei nostri mondi moderni del mondo moderno Alberto Castelvecchi allora Trump ho visto che lei ci ha portato un libro è un po' il manifesto del Trump pensiero nel senso è un libro che è uscito nel 2007 ma è un po' il suo credo il suo vangelo che si intitola pensa in grande e manda tutti al diavolo ecco sono d'accordo con quanto hanno detto normalmente nei dibattiti si visticcia ma non riesco a essere in disaccordo anzi sono un po' di d'accordo con quello che è stato detto perché in effetti Trump rappresenta è una figura di sintesi probabilmente non è un grande politico un grande economista ma sicuramente è un grande comunicatore e incarna una parte dell'America che in questo momento è molto vocal come si dice molto vocale e questa parte dell'America innanzitutto vediamolo se facciamo un po' diciamo di sociologia dell'immaginario noi siamo stati immersi per 10-15 anni in una melassa di politically correct terrificante che in qualche modo è stato il vulto presentabile dell'America è politically correct Obama ma è anche politically correct Mitt Romney sono persone assolutamente come dire brave persone che parlano un gergo rispettabile Trump è assolutamente non rispettabile non è rispettabile il modo in cui si tinge i capelli non è rispettabile il modo in cui parla non è respectable nel senso dell'establishment appunto in grisaglie che diceva Guzzanti e il suo libro dice se ricevi un torto restituiscilo è il mito del revenge americano vai avanti da solo manda tutti al diavolo quindi è il mito dell'individualismo americano trasformato un po' in operetta e soprattutto se prendi una decisione prendi l'istinto è una frase che mi ha colpito molto dice il mondo è un posto molto brutto in cui tutti cercano di ucciderti se sei forte soprattutto psicologicamente io vedo qualcosa di minacciosamente americano in tutto questo cioè questa roba qui l'editore Fazzi pubblicò anni fa un libro sul fascismo rurale americano ma quello che mi interessa molto poi in termini di dinamiche politiche probabilmente Trump non sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti perché questo rafforzerà la candidatura di Hillary Clinton ma quello che mi interessa molto è che esistono parti del ventre profondo degli Stati Uniti gruppi di interesse la National Rifle Association cioè quelli che praticamente difendono il diritto di andare in giro sono più conclusi sono più conclusi ma tutto sommato la base americana che dice io voglio avere una pistola sul mio cassette e voglio avere 14 fucili e sparare agli estracomunitari che immigrano clandestinamente è una cosa che c'è ultimissima cosa io distinguerei un attimo tra la comunicazione politica di effetto e poi quello che succede veramente quando uno prende il potere anni fa proprio perché citavate il caso leghista ce le ricordiamo tutti le 30.000 bocche di fuoco della Bergamasca quando Bossi diceva la Bergamasca cioè tipo scendiamo uno dei monti con i fucili accanto a lui c'era Roberto Maroni che poi quando è stato ministro degli interni è stato uno dei ministri degli interni più istituzionalmente corretti che io ricordi cioè stiamo attenti a vedere i colori della comunicazione politica cioè sembrava che se la Lega scendeva a Roma la Lega quando sono scesi a Roma sono andati tutti raffortunati al Pantano a mangiare le trenette col pesto e cioè si sono subito adeguati al clima romano anche il cacio e pepe quindi quel DC famoso quel Washington DC facceli arrivare a Washington DC e poi vengono in qualche modo allora Marco De Marco del Corriere della Sera da Napoli e professor Pasquino da Torino vorrei farvi vedere alcune interviste che sono state realizzate ieri e vediamole assieme e poi ci forniscono lo spunto ma sì la rietanto che almeno è una tosta sul campo sa sa tanto è una donna la novità sarebbe almeno girarla un po' al femminile ogni tanto sta storia è di Trump per vuole essere indimenticabile soldi problema non ce l'ha secondo me farà qualche cosa come stava come Berlusconi diciamo è emotivo perché è troppo aggressivo troppo come si può dire è poco diplomatico eh tutto qua quindi a capo della più grande potenza mondiale che rischio potrebbe avere uno così eh lo sai anche me il rischio che si potrebbe avere che ci scateni magari una guerra non lo so ecco tutto qua allora nel gergo giornalistico queste sono le cosiddette vox populi cioè si va per la strada si ascoltano i pareri delle persone poi si riportano Pasquino che ridacchia Pasquino che ridacchia lo vedo allora diciamo la verità ma per forza perché c'è il rischio il rischio che Trump scatenino a guerra la scatenata George Bush non c'è bisogno di Trump professore allora dicevo il rischio delle vox populi è questo che poi uno sceglie alla fine quello che vuole adesso perché noi vi abbiamo fatto sentire questo perché l'associated press ha fatto una sorta di un servizio con tutte delle voci su appunto Trump e Clinton raccolte in vari paesi europei che poi sono voci che andranno che saranno trasmesse dalle tv americane questo è lo spezzone di quello che è stato raccolto in Italia ed è inevitabile che ci sia l'accostamento tra Trump e Berlusconi allora io chiedo subito a professor Pasquino e poi a De Marco è veramente così? professor Pasquino ma solo in parte così solo in parte così questi questi paragoni sono un pochino azzardati certamente c'è un elemento comune i due cioè l'antipolitica sono due imprenditori Trump avanti un successo forse esagerato accompagnato anche da qualche disastro che ha compiuto Berlusconi quando è arrivato in campagna elettorale i successi li aveva qualcuno poi li ha messi in dubbio però certamente era stato un uomo di successo certamente entrambi vogliono fare valere questa loro distanza essere outsider rispetto alla politica e anche questo è un elemento comune però Trump è il prodotto di una cultura ha fatto bene chiedo Castelvecchi a segnalare che ci sono elementi di una cultura politica repubblicana che Trump estremizza che utilizza ma ci sono tra l'altro tutti i candidati presidenziali abituamente corrono contro Washington non so se possiamo dire Washington ladrona ma certo dicono che la capitale è corrotta che loro vanno lì e fanno piazza pulita l'unica che non lo vuol dire naturalmente è Hillary Clinton perché non è il prodotto di Washington ma certamente ha vissuto molto e sa come manipolare lo dico però in senso positivo la politica che verrà fatta che lei farà a Washington perché diciamolo per bene Trump non ha nessuna chance di vincere Trump di più non cerca affatto di rappresentare i moderati e questa è la vera distanza tra Trump e Berlusconi e rappresenta una parte dell'elettorato che è comunque minoritaria ma che i repubblicani hanno corteggiato sono i bianchi i repubblicani non hanno mai voluto parlare di immigrati non hanno risolto il problema dell'immigrazione quando Obama ha fatto un'offerta molto seria i repubblicani non sono in nessun modo in grado di arrivare ai neri e sono anche molto distanti dalle donne hanno perso la grande dal punto di vista percentuale con le donne mentre Berlusconi aveva fra l'altro anche un elettorato femminile superiore all'elettorato maschile direi di abbandonare il paragone e dico subito anche se tutti sanno che io non sono un berlusconiano che Berlusconi era molto meglio di Trump molto meglio Marco De Marco Berlusconi era molto meglio di Trump a me fa venire in mente un'altra persona per la verità piuttosto che Berlusconi cioè qualcuno che ha anticipato i 50 anni Berlusconi e che noi napoletani conosciamo molto bene ed era Achille Lauro il vecchio comandante Lauro è molto più simile a quel personaggio che bisognerebbe rileggere e rivedere perché era un linguaggio come lui poco politicamente corretto un imprenditore di grandissimo successo insomma è un personaggio che a me ricorda quel Lauro lì che fu molto criticato molto osteggiato dal cinema dal giornalismo con un eccesso di approssimazione sul personaggio ecco io se devo trarre una lezione dalla storia tenderei a essere meno superficiale nel giudizio su Trump intanto Trump ci sta facendo un grande servizio e cioè ci sta ponendo una questione le primarie sono ancora quel mitico strumento che la democrazia americana si è inventata per selezionare la propria classe dirigente è ancora uno strumento utile e se dovesse vincere lui sì ok ma se dovesse vincere lui gli altri repubblicani che sono mantenuti da un vincolo di correttezza e di lealtà che cosa faranno non voteranno già il discorso di Ronny è abbastanza impressionante cioè e che cosa succederà se poi dovesse davvero vincere non la la corsa presidenziale ma le primarie cioè gli altri che cosa faranno non voteranno per lui voteranno per un altro si spaccherà il partito repubblicano ora se io vedo tutto questo dall'Italia è ancora più allarmante perché in Italia non siamo arrivati neanche a quel livello di primarie siamo a un livello ancora iniziale approssimato non sono primarie le nostre le nostre sono cose di partito rabberciate delle volte vanno male bene il più delle volte vanno vanno malissime non c'è alcuna abitudine a farle e per quanto riguarda le nostre invece io credo che il problema sia un po' quello che ci viene dall'America cioè capire queste primarie italiane ci faranno capire se il PD localmente non nazionalmente ma localmente è ancora un partito può essere un partito d'opinione o è un partito dei signori delle tessere lo capiremo benissimo calcolando già il dato dei votanti abbiamo tre minuti prima della pubblicità quindi un minuto e mezzo a Paolo Guzzanti un minuto e mezzo a Professor Ragusa le domande erano chiarissime lo strumento delle primarie che cosa sono adatte o no e se Trump vince quella repubblicana naturalmente l'idea è che Berlusconi tifa Clinton questo lo ha detto e quindi non tifa Trump per esempio dicendo che lui conosce bene Bill e Hillary sono sempre stati così gentili con lui e sono persone quindi non so se farebbe mai un endorsement pro Trump poi metterei in guardia dal dare per scontato che la corsa di Trump è una corsa comunque che finisce male per lui che è la cosa più probabile ma non necessaria perché stiamo assistendo con queste primarie un fenomeno inatteso e cioè che i scelti sociali e anche i tipi di Stato che danno la maggioranza a Trump sono del tutto inediti rispetto al passato con un effetto moltiplicatore allora io non lo so noi non credo che sappiamo da oggi a novembre questo effetto moltiplicatore se seguiterà ad esserci e dove porterà quindi secondo me l'ipotesi che Trump vinca la convenzione e chi lo sa magari pure le elezioni è un'ipotesi valida che non si può liquidare lui poi copia tutti è copiato pure Ted Roosevelt quando diceva Ted Roosevelt diceva parla piano e impugna un grosso bastone è esattamente però parla forte e impugna un grosso bastone ha solo questa variazione stilistica no scusa volevo dire soltanto sono perfettamente d'accordo queste primarie cosiddette italiane sono delle cose inguardabili inascoltabili prive di qualsiasi interesse io non ho nulla da dire quando sento e vedo ho assistito ad un imbarazzantissimo dibattito da l'uscita annunziata con i candidati romani del PD una cosa penosa su cui allora professore abbiamo un minuto e mezzo scarto le chiedo ma le primarie americane sono sempre state così raffinate oppure erano la matriciana anche loro anche loro prima nel 1970 erano la matriciana si andava dai convention si tentava di mettersi d'accordo come si faceva ai congressi dei vecchi partiti italiani poi nel 1970 era la prima ondata di antipolitica americana in cui si istituzionalizzano il sistema che c'è adesso in cui si vota negli stati e il vincitore delle primarie negli stati poi naturalmente diventa il candidato alla presidenza per quel partito io volevo dire due cose però le primarie sono il metodo per scegliere le persone il problema è che l'America è un metodo molto efficiente che sta portando a una persona esterna a un partito a prenderne il controllo sono così efficienti che permettono la scalabilità del sistema il fatto che le primarie italiane sembrano molto noiose è perché non ci sono regole per essere competitive perché ci sia una competizione sono d'accordo con Pasquino le primarie sono molto interessanti quando sono competitive ma perché ci sia una competizione ci devono essere delle regole i gazebo non sono regole il fatto che i candidati non sanno a chi devono rivolgersi chi è non sappiamo neanche chi sono gli aventi diritto al voto cioè li sappiamo per nome ma non sappiamo come contarli quindi è chiaro che non saranno mai efficienti efficaci e competitive professore grazie mille allora ci sentiamo tra pochissimo e torneremo a parlare delle primarie del PD delle primarie americane e anche delle mancate primarie nel centro-destra italiano restate con noi I'm challenging President Obama my son Donald my son Eric let's go ladies allora Alberto Castelvecchi negli Stati Uniti se ne vedono tantissime e i candidati sono veramente risposti a far tutto però Trump ci mette del suo sì dunque noi siamo stati abituati al fatto che per esempio Obama ha usato genialmente la rete internet però è sempre la rete e internet del politically correct di guru della Silicon Valley cioè il meccanismo virale della rete utilizzato per fare la campagna elettorale lì fu un modello veramente tutti gridarono alla vera e propria rivoluzione nella campagna Obama perché il modello la rete fu usato molto bene insieme a un porta a porta fisico geniale ma la rete da un punto di vista dei fenomeni che diventano viral cioè che diventano virali che vengono visti a migliori persone e anche questo cioè se voi andate su YouTube vedete che obiettivamente a parte il porno che è l'altra grande ma a parte quello una massa importante di video che ci sono su YouTube o di post che ci sono sui blog sono politicamente scorretti cafoni sguaiati da questo punto di vista Trump non fa altro che cavalcare un modo di fare informazione ma un attimo fa nel fuorionda il senatore Guzzanti ricordava appunto è Cruz se non sbaglio che arrostisce il bacon questo è un episodio curioso se andate su YouTube lo potete vedere voi stessi il senatore Cruz che dice ho una nuova ricetta per arrostire il bacon prende questo bacon e lo arrotola intorno a una cosa di metallo che non si capisce bene cos'è poi si capisce è la canna di una mitragliatrice lui sta nel suo giardino parco e spara qualcosa come 30.000 colpi poi la sfumante tira fuori questo bacon noi abbiamo avuto ponte di legno con l'ampolla delle elezioni cioè sono rituali politici però niente è così pop in questo momento come l'uso della rete fatto da candidati di questo tipo esiste un uso tra virgolette di destra della rete che è molto meno politica che corretta quello che si fa appunto alla maniera californiana che è molto più chic se vogliamo però ha un impatto enorme sull'immaginario cioè video di questo tipo possono veramente diventare virali come diciamo noi analisti Professor Ragusa allora noi siamo qui seduti a Roma una domenica mattina e stiamo parlando di Trump grazie a questi a questi suoi video a queste sue uscite però ne stiamo parlando e Hillary Clinton dall'altra parte che sta facendo? quello è un grosso problema della campagna di Clinton Clinton sostanzialmente ha già vinto la nomination per ragioni tecniche anche Sanders continua a vincere stati questa notte ha vinto il Maine sostanzialmente la battaglia democratica è già finita il vero problema il vero problema è che Clinton rischia di essere messa in frigorifero per tutta la durata della campagna repubblicana e quello è un grosso problema perché non vengono esposti allora Clinton un altro problema di Clinton Hillary Clinton è che le ha vinto cioè dovesse essere il candidato Trump lei per quanto riguarda la demografic gli americani con i dati sono molto bravi quindi sanno che se tutto va come dovrebbe andare Hillary Clinton ha vinto le elezioni perché? perché comanda il voto dei neri comanda il voto degli asiatici comanda il voto delle minorities e ha una lead sul voto e avanti sul voto delle donne quindi non dovrebbe esserci storia il problema è che tre mesi fa tutti i pandit americani dicevano no 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 Trump Trump non vincerà mai l'Iowa ha vinto l'Iowa ha vinto altri sette stati dopo quindi è molto rischioso fare i pronostici a questo punto Trump sembra essere veramente una bestia da palcoscenico è uno che ha fatto il reality show e quindi sa che la politica può diventare un reality show ed è molto bravo a gestirla per dirvene una ha raccolto 45 milioni ma è quello che ha utilizzato meno soldi Sanders e Clinton hanno utilizzato fino ad oggi 100 milioni di dollari nella campagna Trump 25 milioni di dollari con un colpo di genio siccome lui utilizza il suo aereo una parte di quei 25 milioni è per pagarsi il suo aereo che utilizza per fare le campagne quindi è uno che ha utilizzato pochissimo ha utilizzato pochissimo i dati Obama aveva utilizzato i dati per capire chi era lui invece ha un'organizzazione molto modesta che non utilizza le nuove tecnologie è veramente un animale bizzarro e quindi dire che Clinton ha già vinto è veramente pericoloso Allora Marco De Marco Corriere della Sera Professor Pasquino vorrei farvi vedere alcune interviste questa volta dei politici italiani rientriamo a casa nostra Beh un po' di mesta autocelebrazione con i soliti rituali che fanno loro vanno a prendere i signori nei centri anziani tra l'altro la campagna dei PD nei centri anziani è già partita e a questo punto visto che noi abbiamo sempre avuto molto rispetto di queste zone franche dove le persone vanno a fare attività ricreativa vanno a recuperare un po' quel senso di collettività ma il PD le usa biegamente sempre per i suoi scopi a questo punto chiederemo anche noi il permesso di poter dare una controinformazione alle persone che frequentano i centri anziani in modo che possano maturare il loro voto in maniera consapevole Ma io credo che in un momento di crisi e di difficoltà della democrazia le primarie sono una grande festa di popolo e il centrosinistra e il PD è l'unica che ha avuto il coraggio di farle cioè di chiedere ai cittadini quello che pensano e quindi è uno strumento straordinario di cui tanti parlano ma che pochi fanno e invece abbiamo fatto ha avuto la forza di farlo proprio coscienti di una situazione difficile Abbiamo detto che entro Pasqua si possono fare le primarie aspettiamo sì ci organizziamo corrono tutti vince il migliore il migliore è cambiato di tutti Fate un po' indietro però con i tempi qui dice arriva domani ed è un dibattito fra Giacchetti e Mascia e l'Orso quindi possiamo prenderci 15 giorni in più non c'è problema basta mafia capitale basta affittopoli perché noi siamo fuori controllo fuori dal controllo di tutti i potentati con Mascia e l'Orso comune trasparente e rivoluzione ecologica a Roma Ecco allora abbiamo sentito un po' di voce abbiamo sentito i grillini Zingaretti La Lega Mascia candidato Mascia e l'Orso e questo ci porta a parlare anche delle difficoltà di fare le primarie nel centro-destra ricordiamo Berlusconi con un colpo di genio ha tirato fuori le primarie per un candidato unico cioè Bertolaso che sono le confermarie qualcuno le ha già ribattezzate che si terranno tra due settimane a Roma vale a dire dei gazebo ci saranno tre quesiti consideri Guido Bertolaso l'uomo giusto per governare Roma secondo quesito o meglio suggerimento quale provvedimento vuole che si è approvato nei primi cento giorni terzo quali sono i temi prioritari per liberare la città e dal degrado Professor Pasquino allora qua siamo in campo centro-destra battaglia tra Berlusconi e Salvini Salvini vuole fare le primarie Berlusconi no perché non le vuole fare e qual è il sottostrato a questa contesa Berlusconi non vuole fare le primarie perché vuole sempre controllare i candidati gli piace nominare i candidati gli piace avere l'affetto la gratitudine la riconoscenza di questi candidati e pensa di essere il più bravo e quindi di essere molto più bravo lui che non invece gli eventuali elettori delle primarie Salvini non gradisce Vertolaso e in questo caso specifico però pensa anche che la Lega sia più forte oramai di Forza Italia e quindi se si facessero le primarie il candidato della Lega riuscirebbe a vincere e Salvini riuscirebbe a quel punto a rivendicare in maniera credibile la leadership del centro-destra ciò detto devo fare se posso due codicilli il primo è che sento troppo scientificismo lì in studio sulle primarie le primarie sono uno strumento utile sono uno strumento democratico certo possono essere regolamentate meglio certo può esserci un albo degli elettori però che cosa c'è di meglio a questo punto per scegliere i candidati lasciamo che siano sempre i politici di professione in alcune risette stanze attraverso scambi che scegliono i candidati e le cariche elettive la mia risposta è chiaramente no aggiungo anche che attenzione a Trump perché Trump non è che conquisterà il partito repubblicano se gli va bene diventa il candidato del partito repubblicano ma il partito non lo conquista avrà poi i suoi problemi da risolvere da risolvere in congresso perché molti repubblicani non sono affatto sulle posi di Trump molti senatori e molti rappresentanti verranno eletti per le loro capacità e anzi contro l'elettorato di Trump se posso dire così e quindi la situazione è molto più complessa e direi di lasciare andare avanti anche perché Trump non ha ancora vinto la nomination punto finale sulle primarie italiane perché sarà il caso che non dimenticate lo dico sempre e so che non c'è abbastanza attenzione lo dirò così in Italia non sono state fatte 20 primarie 200 primarie, 600 ma ne sono state fatte più di 1000 che significa dunque che un po' dappertutto in tutto il territorio nazionale sia fiducia in quello strumento per scegliere i candidati e le candidate e io credo che sia una fiducia tutto sommato ben riposta Marco De Marco, Corriere della Sera da Napoli perché Berlusconi non vuol fare le primarie e qual è la situazione del centrodestra a Napoli? Allora, una battuta sulle primarie in sé però io non sono scettico sulle primarie ma sono molto preoccupato perché vediamo quello che è successo a Roma più che scettico no, ma neanche critico io vedo che cosa è successo vediamo Roma Roma la volta scorsa è stato un successone le primarie un successone 100.000 persone hanno scelto Marino poi quel dato è stato cancellato da una decisione di partito che va in uno spirito assolutamente contrario a quello della grande partecipazione quindi se le primarie devono servire in una fase iniziale ma poi dopo al momento buono quando uno decide che quel sito non va più bene si vada al notaio e si fanno dimettere tutti i consiglieri comunali francamente penso che sia una questione irrisolta così come mi preoccupa il fatto che come dice Pasquino c'è questa grande partecipazione ma com'è invece che più passa il tempio e più la partecipazione alle primarie cala e diventa sempre di più una partecipazione attenzione Pasquino diventa sempre di più una partecipazione di iscritti lo sa Pasquini come vengono calcolate le medie sufficienti per dire se una primaria è andata bene o è andata male si prendono i numeri degli iscritti al partito e si moltiplicano per 10 perché 10 sono grossomodo i familiari e gli amici che ogni iscritto riesce a mobilitare a Napoli sono 2800 iscritti il punto di equilibrio è indicato in 28.000-30.000 insomma questo è allora se io dico se siamo su quella soglia 30.000 le primarie non sono più un esempio di partecipazione di popolo ma sono una mobilitazione dei signori delle tessere se invece siamo oltre i 30.000 aspetto le cifre aspetto se infatti ma io lo dico prima in modo che poi dopo sia più facile per quanto riguarda la destra per quanto riguarda la destra Berlusconi non è che fa una cosa pazzesca le primarie confermative sono primarie che lo stesso PD delle volte ha utilizzato credo per Prodi furono esattamente la prima volta furono esattamente delle primarie confermative quindi non è che è uno scandale in sé non era il PD però non era il PD va bene ma erano confermative ma erano confermative si può fare lì nella decisione di decisione c'è un'assunzione di responsabilità ora gli va bene o gli va male Renzi questa responsabilità se la prende e non se la prende talvolta sì talvolta no se gli va bene è un trionfo se non gli va male manda tutti dal notaio allora è meglio essere chiari e precisi e dire che cosa si vuole fare in maniera programmatica e poi farlo un po' di sano scetticismo professore secondo me non è male ecco Paolo Guzzanti diciamo così è una cosa campana è una cosa campana dice il professor Pasquino le primarie del PD abbiamo fatto tutto questo lunghissimo ragionamento però è altrettanto vero che in alcune città il PD e le primarie non le fa cioè quando il candidato è potenzialmente vincente non si fanno ma io sono così disinteressato devo dire a questo come si diceva a questa problematica con due con tre B perché insomma io non mi diverto cioè non mi diverto con queste primarie non mi diverto mentre le primarie americane poiché divertono dimostrano la loro la loro il radicamento il loro il loro modo di essere sanguigne di essere selettive di essere un torneo in cui cola il sangue e poi uno si rialza e vince qui ho l'impressione che sia una faccenda in cui si moltiplica per dieci perché ognuno porta la zia la cognata il cugino e tre nipoti più moglie e figli e quindi e che credo sia il ritratto più impietoso ma anche più autentico poi se sono una cosa buona beh sì forse però in Italia il partito radicale di Pannella le forze itali di Berlusconi la Lega di Bossi e poi di Salvini l'IDV di Pietro sono tutti i partiti che sono nati per un leader il quale ha detto questo l'ho fatto io è mio e dico io chi ci va e lì è difficile secondo me introdurre e far vivere democraticamente il concetto di primarie perché non fa parte della ognuno poi va a sentire il capo che ha detto e lo dice ha vinto lui le primarie perché ha parlato con il segretario di turno quindi lo trovo poco appassionante può darsi capi a uno sviluppo tutto ciò me lo auguro ma per ora non mi sembra che la democrazia si avvantaggi molto professore Agusa dicevamo durante l'intervallo che gli Stati Uniti si stanno italianizzando quando invece noi cerchiamo di importare uno strumento come quello delle primarie e tutto è incentrato sul problema del compromesso perché? continuando su questa linea cioè le primarie ogni strumento istituzionale ha i pro e i contro quindi sappiamo quali sono i pro delle primarie sappiamo la partecipazione delle persone a scegliere i propri candidati i contro sono che tendenzialmente i candidati che vengono scelti tendono a avere posizioni più estreme quindi in alcune circostanze storiche uno può prendere un rischio piuttosto che un altro in questo momento io sono d'accordo con il professor Pasquino che le primarie sono importanti per un paese che tende ad avere una sorta di scollamento fra il popolo e le elite politiche quindi benvengano le primarie quello che sta succedendo però in America è molto più profondo è profondo perché non è che Trump arriva dal nulla arriva da 5-6 anni di governo completamente paralizzato il governo è paralizzato perché c'è la maggioranza democratica una maggioranza repubblicana ora questa non è una novità per il sistema americano Clinton governò con un parlamento avverso ma quelli erano i momenti in cui il sistema politico era meno polarizzato e si arrivava a un compromesso ogni sistema politico la democrazia è compromesso le parti devono parlarsi e mettersi d'accordo l'America degli ultimi 6 anni è l'America del non compromesso e dell'estremismo repubblicani e democratici si odiano adesso la Supreme Court americana ha 8 giudici non si metteranno mai d'accordo per eleggere il nono i repubblicani dicono no 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 questo presidente non nominerà il nono e invece 20 anni fa molto probabilmente si sarebbero messi d'accordo Obama avrebbe nominato un giudice più repubblicano i repubblicani avrebbero accettato un giudice un po' più democratico avrebbero preso dei grandi curriculum avrebbero preso qualcuno da Harvard di Yale con una lunga tradizione giurisprudenziale sarebbe stato eletto oggi non è più possibile quindi il compromesso è fondamentale importante che fa funzionare la democrazia in America i primi panditi i primi commentatori i panditi sono i commentatori politici che vanno nelle televisioni che vanno alla CNN e commentano che poi sono anche noi siamo panditi potremmo essere dei panditi e incominciano a dire beh forse il sistema parlamentare forse il sistema parlamentare europeo per un sistema molto polarizzato è quello che ci vuole mentre noi stiamo andando all'opposto noi stiamo andando invece verso un sistema che tende ad accentrare più il potere che potrebbe essere un problema quando c'è forte polarizzazione politica Casalvecchi e dunque primarie italiane sulle primarie italiane incombe un'ombra non di non di non un convitato di pietra ma un convitato di pixel digitali che è Casaleggio cioè mentre noi stiamo facendo questi ragionamenti su Roma e su Napoli a Napoli c'è una vecchia creatura berlusconiana un imprenditore capace come Lettieri che però è un vecchio uomo diciamo e poi c'è Bassolino e queste vecchie facce ma c'è una candidata donna che Casaleggio e i suoi hanno messo fuori in maniera abbastanza a Roma c'è questa candidata Raggi che è stata imposta da Di Battista e dal Casaleggio non c'è una candidata del ho sbagliato io? sì non c'è ancora la candidata del dei 5 Stelle la devono ancora cercare arriverà presto a Roma c'è stata imposta una candidata donna che è la Raggi che è stata imposta sfilando improvvisamente all'avvocato romano Marcello De Vito che era il capo di Grillini a Roma da parte di Di Battista che è il nuovo leader Grillino e Casaleggio la candidatura e comunque vadano le cose il Movimento 5 Stelle ha in qualche modo già vinto questa competizione perché ha una forte possibilità di vincere al balottaggio ma anche se non vince al balottaggio il gruppo consigliare che il Movimento 5 Stelle schiererà a Napoli a Roma nei centri urbani importanti saranno un gruppo consigliare molto molto forte c'è il rischio che il Movimento 5 Stelle si prenda a Roma addirittura ma quello che è interessante noi che siamo così appunto analizziamo come si svolgono le primarie è la modalità per quanto mi riguarda loro dicono assolutamente trasparente io ancora non ci ho capito nulla di come si svolgono queste elezioni internetiane con questa chiamata di mille mille duecento tre mila quattromila votanti che poi possono decidere gli equilibri della mia città cioè quello che è curioso è che le sue primarie il Movimento 5 Stelle da sempre le fa su internet ma io come funzionino questi cambi di cappello per cui sembrava che appunto Marcello De Vito che ha dieci anni di attività a Roma che soprattutto negli ultimi anni è stato un super grillino forse proprio perché colluso con gli equilibri romani col territorio gli sfilano la sedia e ci mettono la raggi che è una bravissima ma non è altrettanto autorevole ecco lì come si forma il consenso politico intorno ai candidati grillini è un mistero però quello che è interessante è che loro hanno una possibilità di connettersi poi alla base elettorale molto molto forte che noi forse stiamo sottovalutando Professor Pasquino gliela faccio a lei la domanda sui grillini su questo metodo di reclutamento via internet se ci ha capito qualcosa almeno lei ma qua non è il problema di capire il problema semmai sarebbe di controllare se davvero quegli esiti che i grillini dichiarano sono reali perché è notorio che si può usare la rete per scegliere le candidature si può fare con una certa facilità il problema è che chi ha accesso alla rete per scegliere le candidature cioè dovremmo chiederci se Casaleggio ha la possibilità di controllare quelli che poi sono autorizzati a votare dopodiché possiamo anche criticare e credo che dobbiamo criticare il fatto che alla fine si tratta di 3, 4, 5 6 mila persone per un elettorato che essendo del 25% sono se io non mi sbaglio a livello nazionale sono se non mi sbaglio al di sopra degli 8 milioni e quindi c'è una discrepanza tremenda comunque tra quelli che De Marco dice sono i parenti dei candidati scusate i parenti degli iscritti del PD e invece coloro che votano nelle primarie via rete dei grillini però non vorrei che si esagerasse questo tipo di discorso perché De Marco va benissimo perché fra l'altro che cosa abbiamo contro le famiglie allargate e cosa abbiamo contro le umane civili di allargante però dei grillini non c'è dubbio sì io credo di sì credo di sì però credo anche che dobbiamo abituarci a questa cosa della rete la consideriamo interessante quando la pratica Obama per mobilitare i suoi elettori e la consideriamo invece deplorevole quando la pratica Casaleggio no la pratica va bene poi voglio controllare però quello che Casaleggio non ci consente è di controllare davvero chi ha votato e in che modo in che modo ha consentito l'accesso al voto a me pare però Roma ma qui non ne so abbastanza che la Raggi le abbia vinte queste primarie attraverso la rete e quindi non sia stato semplicemente un problema di mettere fuori gioco De Vito aggiungo attenzione perché sento montare anche nei commentatori lì in studio i pandits una ondata anti grillino pregiudiziale fate attenzione professore il vero pandit è lei l'unico vero pandit è lei a questo tavolo lo sa perfettamente grazie questo devo dire alla sette la prossima volta nel sottopancia invece di scrivere politologo che non vorrei scrivere pandit che preferisco però quello che vorrei sottoneare è che comunque i grivini hanno avuto un merito importantissimo di portare alle urne a votare nel febbraio del 2013 un numero elevato di elettori che altrimenti si sarebbero astenuti e io credo nella rappresentanza e quanti più elettori vanno a votare quanto è meglio è possibile avere la rappresentanza il resto francamente come sappiamo è affidato agli uomini e alle donne e allora chiediamoci se gli uomini e le donne che mandiamo in Parlamento sono adeguati quella è poi la vera domanda la vera risposta Marco De Marco abbiamo poco meno di un minuto prima della pubblicità leggevo questa mattina sul giornale che per evitare dei brogli addirittura a Napoli il PD ha messo in campo degli iPad con un'applicazione è vero? sì è verissimo anche questa radice lunga diciamo sul sospetto che c'è sull'uso del voto in campagna elettorale a Napoli sono successivi tutti ma in realtà anche a Salerno se ne parla pochissimo ma negli ultimi anni c'è proprio un metodo Salerno di voti falsificati di risultati locali che sono stati trasferiti al centro in maniera capovolta ma insomma quest'app c'è è un tentativo di controllare la regolarità del voto ahimè a Napoli la copertura per i iPad non è totale quindi temo sinceramente che sarà un palliativo però è uno strumento utile così come è uno strumento utile la rete sono d'accordo lì lo scetticismo deve essere solo prudenziale ma è chiaro che quella è la nuova frontiera e con quella ci dobbiamo misurare a Napoli ti devo interrompere perché abbiamo la pubblicità poi ritorniamo tra pochi secondi di pubblicità a parlare delle primarie italiane e americane restate con noi Le 9.23 ben tornati in studio parliamo delle primarie del PD e delle primarie americane problema di controllo problema di brogli Castelvecchi voleva sollevare un altro problema comune all'Italia gli Stati Uniti che è quello degli immigrati sì diciamo che gli immigrati le politiche sull'immigrazione l'atteggiamento generale verso l'immigrazione che atteggiamento prendere sia verso i nuovi immigrants cioè quelli che stanno entrando adesso sia verso i vecchi gruppi di immigrants che hanno già per esempio negli Stati Uniti grandi posizioni di potere di affluenza economica è un tema determinante ora io appunto forse volevo lanciare anche a De Marco un po' questa provocazione nel senso che a proposito di famiglie allargate napoletane qualche anno fa il PD napoletano ebbe un enorme scandalo interno perché diciamo che infila in coda ai seggi delle primarie napoletane c'erano gruppi di estracomunitari diciamo così in qualche modo cooptati non si capisce bene sulla base di e recentemente Sala il candidato al comune di Milano si è sentito accusare di insomma avere cooptato in gruppo cioè di ricevere un sostegno sospetto da gruppi di cinesi residenti a Milano allora il tema è per carità va benissimo ognuno deve accedere al voto politico se ne ha diritto ma il tema grosso è quando appunto come diceva il professor Pasquino i numeri sono così pochi cioè se io mi baso su 20.000 voti e di questi 20.000 voti riesco a portare 3-4.000 persone in stile minatori rumeni di Ceosesco cioè prendo delle carrettate di persone le metto lì mi faccio da un voto allora questo può diventare un fenomeno obiettivamente sospetto io questa cosa qui dico perché recentemente il PD napoletano fu scosso da questa roba anche in termini di credibilità e la cosa poi è rientrata e si è detto non lo faremo mai più però c'è un po' la tentazione di visto che appunto in assenza di regole come diceva il professor Ragusa nelle manine e manone che si infiliano a queste ore sono di tutti i tipi l'uso strumentale degli estracomunitari come massa di manovra in queste piccole consultazioni elettorali è abbastanza rischioso De Marco Corea Sera da Napoli no volevo segnalare l'effetto dell'assenza di regole è giusto il riferimento a Napoli 5 anni fa in quel caso le primarie vennero annullate si me lo ricordo esatto però la stessa cosa è successa nelle identiche proporzioni a Milano il caso di cinesi sì ma solo che i cinesi napoletani hanno invalidato le primarie i cinesi milanesi invece le hanno confermate nel senso che lì il risultato è stato preso siccome era è un caso analogo c'è stato credo in Ligure in modo particolare alla Spezia ed è il caso che è uno dei casi che ha fatto infuriare Cofferato trago una lezione insomma se i cinesi possono votare dobbiamo essere tolleranti ovunque se i cinesi non possono votare allora si dovevano annullare pure il sospetto però su come certe volte vengono usati all'interno di piccole compagini primarie come massa di malattie ma d'altro canto anche gli antichi romani avevano i clientes e come dire i clientes spesso non erano come si dice a Roma erano burini cioè te li portavi dal lago romano impacchettavi 7-800 persone e ottenevi un pacchetto di consensi io penso ecco questo diciamo nello scenario un po' da far west in assenza di regole che sono le varie primarie italiane che sono pur sempre un fenomeno interessante il ruolo che giocheranno negli anni futuri ma questo in generale anche sul consenso politico e un ruolo anche benedetto ci deve essere gli estracomunitari è un tema che diventerà sempre più importante sperando che diventi un tema di regole e non di assenza di regole questo volevo dire ecco io volevo sentire Guzzanti, Raguse e Pasquino su un'altra cosa che forse non è stata detta abbastanza ma che a mio parere è interessante vale a dire a queste primarie il professor Pasquino possono votare anche i sedicenni adesso tutti sappiamo che spostare l'asticella in basso significa esporre i candidati verso esigenze nuove mi conferma questa tendenza sì questo in un certo senso va bene io vorrei che potessero votare soltanto coloro alle primarie soltanto coloro che poi votano nelle elezioni generali cioè l'apertura agli immigrati mi pare francamente un atto di populismo gratuito inutile e qualche volta dannoso soprattutto quando non so se sono tutti cinesi ma quando gli immigrati che non hanno la cittadinanza italiana vengono portati a votare per un determinato candidato aprirla invece ai giovani è utile perché bisogna abituare i giovani a votare perché devono esprimere le loro preferenze e poi bisogna invitare anche i vecchi e lo dirò così tra virgolette a capire quali sono le esigenze dei giovani e quindi cercare anche di rappresentare quelle esigenze e quelle preferenze che ci sono e spesso sono leggermente diverse non tantissimo non esageriamo leggermente diverse rispetto all'elettorato generale quindi questa è una buona cosa purché siano i giovani che sono cittadini o che a 18 anni diventeranno cittadini magari a quelli che vanno a votare invece di chiedere 2 euro io gli chiederei lo stesso ma invece di chiedere 2 euro regalare una costituzione italiana sarebbe un'opera buona e giusta Guzzanti e Ragusa vota i sedicenni e gli immigrati sì o no? ma io direi sono d'accordo con quello che è stato appena detto perché se va a votare alle primarie e chi poi non vota nelle elezioni questo costituisce soltanto un'alterazione del meccanismo e è anche vero che chi ha 16 anni chiede altre cose e non so quali precisamente ma certamente altre rispetto a chi ne ha 18 o più quindi a me sembrano questi anche questo gioco sugli emigranti cinesi o non cinesi a Roma abbiamo visto anche i corteggiamenti nei confronti di altre minoranze tra cui i verdiniani i verdiniani come minoranza immigrata non lo so se ne può parlare queste ne vedo sembrano trucchi certo non come 16 anni no è un'altra fascia d'età e anche di reddito comunque sì a me personalmente queste cose piacciono poco non vedo le primarie americane nascono hanno una storia che è la storia degli Stati Uniti la storia di generazioni che andavano a cavallo a portare il loro voto la distanza tra l'elezione di novembre e l'insediamento di gennaio dipendeva dalle enormi distanze dai treni dalle guerre e tutto faceva parte di una partecipazione popolare sì ma che è rimasta perché in America votano tutto non solo il condominio la scuola il quartiere è veramente un'educazione e con delle regole ferree in cui tu non ti puoi azzardare a fare della creatività cacciarona o di questo genere quindi a me queste cose mi lasciano del tutto perplesso saranno positive il professor Pasquino dice di sì e lui è veramente un pandit io ho qualche dubbio al pandit Ragusa un minuto per concludere ma sottoscrivo quello che hanno detto i due pandit nel senso che secondo me è giusto che alle primarie votino chi poi va a votare quindi avere diritto a votare devono essere i cittadini che potranno votare poi quando hanno raggiunto i 18 anni sui 16 anni direi iniziamo a parlare a far votare i 16 anni i 16 anni ormai sono abbastanza maturi anche lì il fatto che facciamo votare i 18 anni viene da una storia in cui i 16 anni molto probabilmente non erano ancora in grado di decidere oggi forse lo sono e in un paese che tende a diventare sempre più vecchio avere i 16 anni al voto potrebbe essere un controbilanciamento per politiche più innovative grazie professore allora io ringrazio tutto Alberto Castelvecchi docente di comunicazione della LUIS Paolo Guzzanti Giuseppe Raguse economista della LUIS Marco De Marco da Napoli del Corriere della Sera e soprattutto il nostro amico pandit da Bologna Gianfranco Pasquino grazie a tutti voi panditi di scienza politica panditi di scienza politica grazie a tutti voi per esservi svegliati presto questa mattina e per averla passata con noi alle 13.30 il TG alle 20 il TG della sera con dottora Francesca Fanuele domattina se volete ci sarà di nuovo Omnibus alle 8 il dibattito condotto da Alessandra Sardoni per tutte le altre notizie il sito è www.tglasette.it grazie ancora per essere rimasti con noi e buona domenica grazie a tutti